Tutto nasce da un'ispirazione avuta da mio padre, che lavorava comunque nel settore carni, ma non avevamo un'attività. Io vedevo magari gli altri macellai realizzarsi, lavorare la carne, era una cosa che mi affassionava. E così decido, non appena ho fatto 18 anni, di aprire la mia attività. Siamo a Nucci, una cittadina della Murgia Barise, dove noi usiamo a previsionarci delle nostre carni. Il nome Ritrovi dei Sapori nasce dal ritrovare da noi i sapori di una volta. Noi offriamo carni tracciate dalla stalla alla macelleria, carni che noi poi trasformiamo, come magari il vitello podolico, la carne di manzo, le scottone. Oggi voglio presentarvi un piatto che prepariamo di solito con il maiale locale, i flauti. Praticamente è una fetta di coppa di maiale senza osso, dove poi dentro introduciamo delle verdure di stagione. Sono delle specialità che ben si adattano alle preparazioni veloci, nonché al fornello che in queste serate, come il mercoledì e venerdì, prepariamo qui da asporto. Vi aspettiamo il vitrovo dei sapori. Grazie a tutti.